Una giornata storica per il turismo e per la confcommercio, così l'ha definita Merigo Varotti, direttore provinciale dell'associazione di categoria a margine della costituzione della prima rete di imprese turistiche della regione Marche, di cui sarà primo presidente fino alla prevista rotazione, chiamata Destination Marche. Direttore, si presenta questa rete di impresa ed è già una novità perché al tavolo siedono dei competitors che però si trovano insieme per un fine comune. Come nasce questa e perché nasce questa rete di impresa e dove vuole arrivare Destination Marche? La legislazione fiscale consente da un paio d'anni in Italia la costituzione di reti di impresa anche nel mondo del turismo. Prima questa era una facoltà che era riservata alle aziende del manifatturiero e le aziende industriali, ma Destination Marche è la prima rete di impresa turistica nella nostra regione, nella nostra provincia, ma anche nella regione Marche. Gli obiettivi sono molteplici, intanto stare insieme e fare massa critica come operatori privati nei confronti delle istituzioni per una nuova attività di promozione. Quindi elaboreremo, progetteremo nostre proposte per la regione Marche, ma anche per le istituzioni locali, per quanto concerne le iniziative di promo commercializzazione. Studieremo progetti anche per il miglioramento delle attività di booking delle singole strutture, perché siamo insieme nella rete, ma siamo anche operatori concorrenziali l'uno con l'altro. e quindi il fatto di metterci insieme, mettendo insieme in comune i rispettivi know-how, può servire per migliorare e ottimizzare la gestione delle singole strutture. Insieme elaboreremo anche dei progetti contro l'abusivismo, che purtroppo è imperante anche nel settore dei viaggi organizzati. L'obiettivo finale è quello di essere un interlocutore credibile delle istituzioni. Troppo spesso il turismo viene argomentato, discusso, elaborato e trattato da persone che poco sanno di turismo, sono rappresentanti magari solo di istituzioni di carattere politico e amministrativo, non hanno l'esperienza sul campo. I componenti di Destination Marche sono tutti imprenditori che da decenni lavorano nel comparto, che ancora oggi girano il mondo con la valigetta in mano per andare a cercare clienti da portare in questa meravigliosa regione che sono le Marche. Pesaro, ma non solo, è un territorio più ampio e magari potrebbero arrivare contributi anche da territori vicini a questa provincia? Sì, intanto Destination Marche parte con questo numero di imprese aderenti, ma siamo disponibili anche a valutare altre entrate, insomma altre strutture che vogliono aderire alla rete. Stiamo anche lavorando per verificare l'opportunità di entrare, di costituire una struttura regionale dei tour operator, c'è già un progetto in corso al quale stiamo partecipando, anche questo servirebbe appunto per unire tutti i tour operator marchigiani e avere un ruolo rilevante nella programmazione regionale, ma anche nella utilizzazione delle risorse regionali per il turismo, perché noi riteniamo che gli operatori privati con le esperienze e le capacità che hanno con il personale che ha un know-how straordinario possono essere utilizzati anche dalla stessa regione Marche per svolgere quelle azioni di carattere commerciale che è bene che non faccia la regione, cioè la regione deve fare le leggi, ma poi l'attività concreta pratica la devono svolgere i privati. Ecco, vorremmo che nella nostra regione ci fossero più soggetti in grado di coadiuvare la regione Marche nell'esplettamento di queste funzioni. L'obiettivo è dunque quello di fare rete per contare di più in campo turistico, alla luce dell'ultima stagione e non è stata l'unica, piuttosto deludente. In questa prima fase ne fanno parte sette realtà imprenditoriali del territorio provinciale di Pesaro Urbino, Riviera Incoming, tour operator della Confcommercio, Gabima, l'agenzia di viaggio dell'Associazione degli Albergatori di Gabicce Mare, i tour operator Marche Holiday di Acqualagna e i pesaresi Esatur Sport Events, APA Hotels SRL, Mondo Viaggi e Sogno. Noi ne abbiamo sentiti alcuni. Fabrizio Oliva di APA Hotels SRL, un tour operator, la sede è Pesaro, parte Destination Marche, una rete d'impresa tra diversi soggetti, che cosa vi aspettate, perché aderite, quali sono un po' gli obiettivi? Ora intanto APA Hotels è l'agenzia, il tour operator dell'Associazione degli Albergatori di Pesaro, noi ci uniamo ad altri operatori, una cosa anche molto strana che un tour operator di un'associazione si unisce a operatori privati perché riteniamo che appunto i momenti così difficili imponga di stare tutti insieme e che tra l'altro questa possa favorire un confronto anche con le istituzioni locali, sia a livello comunale che provinciali, anche se oggi non ci sono più, ma soprattutto quelle regionali. Visto che di turismo si parla tanto, ma in realtà per il turismo si fa ben poco perché pensiamo solo al bilancio della regione, non è stato ancora approvato il piano promozionale 2015, per cui di fatto per il 2015 non si farà più nulla tranne il BIT e l'ultima fiera che è stata solicitata da noi per Mosca e quindi pensiamo di dare una svolta in questo senso qua. In conferenza stampa sono state specificate le iniziative che a breve Destination Marche metterà in campo, come quella di un progetto da presentare alla regione Marche in fatto di commercializzazione e promozione turistica. Fiorenzo Agnini, titolare Mondo Viaggi, tour operator e agenzia di viaggi, insieme ad altri soggetti partecipate a Destination Marche. Quali sono un po' le vostre aspettative? Innanzitutto la cosa importante è che ci sia sorta questa associazione e questa rete di impresa, perché i tentativi sono stati tanti e nel nostro settore l'individualismo ha sempre preponderato e quindi voglio dire è stato sempre difficile. Ora gli intenti sono buoni, quindi contiamo di avere dei risultati anche perché l'incoming nel panorama turistico assume un'importanza fondamentale più che l'outgoing visto la nostra situazione finanziaria, quindi noi andiamo a pescare nel nord Europa principalmente, Olanda e paesi bassi in generale e vediamo che c'è molto interesse per in particolare la nostra regione, quindi anche questa associazione, questa rete chiamiamola così, ci permette di investire, quindi non sempre individualmente la cosa diventa un po' pesante, quindi per ottenere dei risultati congiunti, dei risultati comunque che vanno a beneficio di tutti e della regione. Stare insieme vuol dire anche combattere quei fenomeni che vanno dall'abusivismo a la vacanza fai da te, a un passaparola che a volte fa più danni che altri? Come nel calcio tutti sono arbitri o allenatori, nel turismo tutti sono tour operator, quindi ci sono dei fenomeni veramente assurdi che quando lo vedi rimane inorridito, dicevo prima, siti internet che sorgono da semplici privati che offrono pacchetti turistici senza alcuna autorizzazione, senza alcuna copertura assicurativa, senza alcuna copertura tecnica, quindi questo è un fenomeno che comunque purtroppo funziona e ci toglie, oserei dire, un 30% di fatturato. E' in mano a questi personaggi che sia nell'incoming che nell'outgoing si improvvisano agenti di viaggio prendendo spunto dalle varie opportunità di internet, assemblando dei pacchetti che poi vendono tranquillamente in rete e quindi vuoi quello che si sente, quindi chi prende la fregatura ma anche chi onestamente parte. Invece è importante avere delle certezze e le sicurezze, no? Questo per voi ma anche per chi si affida a voi. E' come andare in macchina senza assicurazione, finché ti va bene ti va bene, se hai un incidente. In conclusione il direttore provinciale di ConfCommercio, oggi anche neopresidente di Destination Market, ha parlato delle previsioni turistiche per il 2015. Speriamo in una ripresa, anche se il mercato interno è e rimane debole. Contiamo sull'estero, ma il fatto che manchi un piano promozionale turistico da parte della regione incide in negativo. Elementi rimarcati da Ombretta Pepe, di Riviera Incoming, tour operator della ConfCommercio di Pesaro Urbino, parte di Destination Market. La rete d'impresa che abbiamo sottoscritto oggi alla presenza delle telecamere è un accordo tra competitor, quindi noi quando partecipiamo ai momenti di incontro della domanda e dell'offerta professionale siamo comunque competitor su tavoli diversi, ciascuno con le sue proprie strategie, ma come ogni territorio abbiamo sentito il bisogno di una regia, di una programmazione, ma soprattutto di progetti che siano anche di lunga durata. Non si può pensare di abbandonare un territorio, noi abbiamo avuto un territorio abbandonato di fatto a se stesso. Provincia Comune non hanno avuto una visione riguardo questa meravigliosa provincia che noi rappresentiamo e che siamo predisposti a vendere facendo incoming. Ci siamo parlati, abbiamo capito che c'era bisogno di fare qualcosa in più, un passo in più, strategie di marketing e di penetrazione dei mercati fatti in maniera professionale e coordinata. Naturalmente ciascuno poi giocherà le sue carte da un punto di vista commerciale proponendo la sua propria offerta e quindi facendo il meglio per le nostre aziende, ma la progettazione va condivisa per abbattere i costi e per proporre immagini coordinate di un territorio meraviglioso che deve essere finalmente rappresentato.